La pulizia dell'auto è una delle attività indispensabili per mantenere la propria macchina in ottimo stato. Tuttavia, ogni tanto può capitare di notare dei fastidiosi graffi sulla carrozzeria, che possono rovinare l'aspetto estetico. La buona notizia è che esiste un trucco molto semplice per rimuovere i graffi dalla carrozzeria in pochi secondi, utilizzando un prodotto che probabilmente ha già in. Antonia Castro, una giovane automobilista, ha condiviso il trucco su TikTok, dimostrando come sia possibile rimuovere i segni dalla carrozzeria in pochissimo tempo e app. Il trucco consiste nell'utilizzare un batuffolo di cotone per applicare dell'alcol etilico sulla vernice, lasciando la carrozzeria pulita e priva di L'alcol etilico è un liquido che viene solitamente utilizzato come antisettico, ma è anche molto utile per la pulizia dell'auto. Per rimuovere i graffi dalla carrozzeria, basta utilizzare un batuffolo di cotone imbevuto di alcol etilico e passarlo sulla zona. In pochi secondi, i graffi scompariranno e la vernice tornerà. È importante sottolineare che, per essere efficace, l'alcol etilico deve avere una concentrazione del 70%. Tuttavia, Antonia ha utilizzato un alcol etilico al 50% e ha comunque ottenuto ottimi risultati. L'alcol etilico è un prodotto sicuro da utilizzare sulla carrozzeria dell'auto, ma è importante fare attenzione perché è altamente infiammabile. Inoltre, contiene anche additivi tossici per evitare che le persone lo consumino, quindi è importante utilizzarlo con cautela e non lasciarlo a portata. In ogni caso, il trucco dell'alcol etilico è un ottimo modo per rimuovere i graffi dalla carrozzeria dell'auto in modo facile e veloce, senza dover spendere so. Tuttavia, è importante ricordare che questo trucco funziona solo per i graffi superficiali sulla vernice dell'auto. Se i graffi sono più profondi o se interessano parti metalliche dell'auto, è necessario rivolgersi a un professionista per la ri. Inoltre, per mantenere la propria auto in ottimo stato, è importante adottare alcune buone pratiche di manutenzione, come la pulizia regolare della carrozzeria con prodotti specifici. Inoltre, per mantenere la propria auto in ottimo stato, è importante adottare alcune buone. In questo modo, la propria auto rimarrà sempre in perfetto stato e avrà un aspetto estetico.